Crisi di Ferragosto in regione. La Lega mostra i muscoli, minaccia di non partecipare più alla Giunta e pretende la verifica dell'attuazione del programma nei primi sei mesi di governo. Il carroccio spinge soprattutto sul tema dell'autonomia differenziata, suo cavallo di battaglia, mentre l'opposizione approfitta delle liti nel governo abruzzese per correre all'attacco. Una crisi che si è aperta sulle poltrone, quelle della sanità, che sono quelle più importanti e scottanti, e che si chiude di nuovo sulle nomine e sulle poltrone. In questi sei mesi passiamo da una Giunta lenta a una Giunta ferma, dove non c'è un atto di programmazione che qualifica l'attività di governo, ma solo una discussione attorno alle nomine che sono finite anche su un foglio di carta, ovvero su un vero e proprio pizzino nel quale c'erano spartizioni per gruppi, per numeri e anche per punteggi. La maggioranza si è riunita l'altro giorno all'Aquila e a porte chiuse pare essersi ricompattata. A pace fatta, nella Giunta sono arrivate le nomine di cinque capi di partimento, escluso quello all'ambiente. Per la maggior parte si tratta di riconferme della Giunta guidata da Luciano D'Alfonso. Riconfermare la gran parte dei direttori, quasi tutti per la verità, non può che stare a significare che il lavoro prodotto nel passato è un lavoro utile. Adesso tutta l'attenzione sulle nomine vertici delle ASL. Dovranno essere nominati i direttori delle ASL di Chieti e dell'Aquila, nonché quello dell'ASL di Teramo, posizione lasciata vacante da Fagnano, promosso capo dipartimento regionale. Inoltre, tra poche settimane, si concluderà anche il mandato dell'attuale direttore dell'ASL di Pescara. Mi par di capire che una delle scelte che hanno fatto attorno alla sanità è quello di liberarsi di alcune postazioni per poter nominare poi di fatto tutti e quattro i direttori delle quattro ASL. Credo che sia una Giunta e una maggioranza che stiano esclusivamente utilizzando il potere per il potere.